All'ultima battuta della seconda pagina, battuta 24, gli uomini cantano solo la prima e la terza strofa. Alla prima battuta dell'ultima pagina, i due primi là dei temori sono sostituiti da due do. Alla prima battuta della seconda pagina, i due primi là dei temori sono sostituiti da due do. All'ultima battuta della seconda pagina, i due primi là dei temori sono sostituiti da due do. All'ultima battuta della seconda pagina, i due primi là dei temori sono sostituiti da due do. All'ultima battuta della seconda pagina, i due primi là dei temori sono sostituiti da due do. All'ultima battuta della seconda pagina, i due primi là dei temori sono sostituiti da due do. All'ultima battuta della seconda pagina, i due primi là dei temori sono sostituiti da due do. All'ultima battuta della seconda pagina, i due primi là dei temori sono sostituiti da due do. All'ultima battuta della seconda pagina, i due primi là dei temori sono sostituiti da due do. All'ultima battuta della seconda pagina, i due primi là dei temori sono sostituiti da due do. All'ultima battuta della seconda pagina, i due primi là dei temori sono sostituiti da due do. Grazie. Grazie.